In studio si riaccende la polemica su fascismo e antifascismo. I toni si infiammano presto, se lei non va in giro con cui il cartello è un fascista? Dice la senatrice di Forza Italia riferendosi al servizio mandato in onda e rivolgendosi alla giornalista del Corriere della Sera. Perché uno deve dire di essere antifascista se lo dimostra nei fatti. E la mele ribatte, è un problema. Se uno non è in grado di dire sono antifascista è un problema, rimarca la giornalista. Che prosegue, appena Giorgia Meloni è andata al governo la comunità internazionale si è preoccupata. Quindi la domanda sul fascismo è stata fatta sia a lei sia a Ignazio la Russa e nessuno è stato in grado di dirlo. Ma non è una cosa complicata dire sono antifascista. A quel punto lì Ciaronzulli osserva, lo chiedono con una violenza. Io non vado a chiedere se uno è anticomunista, nessuno vuole tornare a quel momento. Non c'è il pericolo fascista, ammette infine la Meli, e anche la storia di Scurati mi fa sorridere perché paragonarlo a Matteotti vuol dire che non si sa nulla di storia. Grazie a tutti.